Mamma! Come sta? La mia futura suocera preferita. Stai zitta, siediti. Mamma, che c'è? Hai visto? Cosa? Dimmi se si può essere più imbecilli. Ma perché? Che ho fatto? Sto parlando di quelli delle sedie. Sono troppo grandi. Mi hanno mandato cento sedie da conferenza, non da pranzo di nozze. Mamma, ma fa lo stesso! Ma fa lo stesso! Questo... Non fa lo stesso! Questo sai che cosa significa? Che a ogni tavolo ci stanno nove persone, non dieci. Sai che cosa significa? Che dovrò fare un tavolo in più. Sì, dovrò fare un tavolo in più, ma per comporre quel tavolo in più dovrò andare prendendo uno scartino a ogni tavolo e comporre il tavolo degli inutili. E farebbe molto ridere il tavolo dei tutti brutti e... Inutile, appunto. Buonasera. Mamma, andiamo a parlarne dentro, così ti calmi.